L'ufficialità è arrivata alle 13.33 quando è stato diffuso il comunicato della Lega di Serie B che ha definitivamente dato il via libera all'uso del Sinigaglia, chiudendo così la telenovela sull'agibilità. Dopo il via libera della Commissione Provinciale di Vigilanza mancavano i pareri di Federcalcio e Lega, arrivati a ora di pranzo praticamente in zona Cesarini, visto che il fischio d'inizio sarà domenica alle 15. E da domenica l'impianto ufficiale per le gare casalinghe del Como non sarà più il Silvio Piola di Novara, ma il Sinigaglia. Dopo il via libera della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi della FIGC, si legge nella nota della Lega di Serie B, si comunica che l'impianto sportivo ufficiale della società calcio Como per le partite interne della stagione sportiva 2015-2016 a partire dalla gara a Como-Brescia è il Giuseppe Sinigaglia. La stessa Lega, nel pomeriggio, ha motivato ulteriormente il via libera con un secondo comunicato nel quale si ribadisce l'importanza per società e tifosi di giocare nel proprio stadio. Una scelta fatta tenendo conto, sottolineano ancora dalla Lega, delle rassicurazioni ottenute dalle istituzioni locali e dal calcio Como sulla possibilità di organizzare la gara dal punto di vista sportivo, della sicurezza e dell'affluenza allo stadio dei tifosi ospiti e locali. Esilio è finito dunque per gli azzurri, soddisfatto ovviamente il Consiglio d'amministrazione del Como che in serata ha diffuso una nota per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati con il massimo impegno affinché fosse possibile ottenere questo risultato. Un grazie particolare, sottolinea il presidente Pietro Porro anche al Brescia Calcio, con i cui dirigenti abbiamo pienamente ricomposto qualche piccola incomprensione. E' chiarito, aggiunge Porro, come entrambe le parti desiderino che la gara si svolga in un clima sereno secondo i principi della massima lealtà sportiva. Infine, un ringraziamento ai tifosi che da settimana attendevano questo momento. Per loro, quantomeno per chi non è abbonato, ora è tempo di acquistare i biglietti. Per agevolare i supporters, visti i tempi e i ristretti, l'apertura della sede verrà prolungata. Segreteria a disposizione domani dalle 10 alle 12 e 30, dalle 14 e 30 alle 22 e domenica dalle 9 e 30 alle 12, mentre i botteghini apriranno alle 13. Tagliandi in vendita anche online sul sito vivaticket.it e presso le prevendite Bartabacchi, San Martino e Barroma a Como, Ipercoppe, Travelmania di Cantù, Pachita Viaggi e Vacanze di Longone al Segrino e l'Orbea, posta privata nazionale di Mariano Comense. Pensando domenica, infine la società raccomanda al pubblico di presentarsi allo stadio per tempo per evitare code ai tornelli.